Via della Biscia, colleghe ai quartieri di Montà e Chiesa Nuova, strada stretta, piena di curve, ridosso di case e condomini, un paio di chilometri che invitano alla prudenza e invece pochi rispettano i limiti, migliaia di auto in transito ogni giorno e residenti esasperati. Alla mattina, quando hanno fretta per andare in ufficio a lavorare, devono controllare i vigili in borghese, così si vede veramente a quanto vanno. I residenti chiedono al sindaco Giordani più controlli e temono che prima o poi si verifichi qualche incidente molto grave, in corrispondenza dei dossi il limite di 30 km all'ora negli altri tratti è di 40, ma i limiti non servono, le auto sfrecciano come razza. E' una cosa assolutamente assurda, ho già telefonato due volte alla segreteria del sindaco dicendo che qui succederà un omicidio, ma un omicidio penale perché nessuno va minimo dei 60 km all'ora. In comune mi ha risposto che provvederanno in qualcosa, però di certo, è già un mese quasi, di certo è sicuro, non vedo mai niente. Non mancano i tamponamenti o meglio la perdita di controllo dell'auto da parte di chi è alla guida. Quel paletto là, vede hanno cambiato un paletto, sarà cinque giorni fa, questo, l'avevano divelto, se c'era qualcuno cosa facevamo? I residenti si aspettavano dall'amministrazione provvedimenti che affrontassero una volta per tutto il problema, invece... Sembrava che mettessero, aveva detto il sindaco Giordani, che mettevano le telecamere. Io non so più niente, non ho più sentito niente e quindi se andiamo avanti così, prima o dopo succede la disegrazione.